buona giornata amici di fano tv questa è la rassegna stampa iniziamo insieme la giornata oggi è venerdì 20 gennaio 2023 come sempre iniziamo la giornata passando per l'almanacco del giorno ma intanto voglio subito darvi un appuntamento per questa sera sì perché questa sera dopo il tg fano tv trasmetterà alle ore 21 un bellissimo documentario è quello girato da paolo del bianco per quanto riguarda la città di fano i suoi aspetti le sue manifestazioni i suoi eventi i suoi personaggi una bellissima dopo cena da passare insieme con la propria città la propria atmosfera il proprio modo di vivere ed ora passiamo veramente al almanacco del giorno e vediamo i santi che si festeggiano oggi i santi san sebastiano e fabiano ovviamente il santo più noto è san sebastiano san sebastiano pretoriano denunciato perché cristiano fu condannato a morte con l'essere trafitto dalle frecce la sua immagine è stata molto molto popolare dal medioevo su fino ai giorni nostri lo vediamo spesso nei quadri dipinti dagli artisti più famosi tuttavia di fronte a questa sentenza capitale sopravvisse fu poi curato da una vedova una volta ristabilitosi miracolosamente si dice si presitò di nuovo all'imperatore quella volta era diocleziano che questa volta comandò che fosse frustato a morte e il suo corpo gettato in una cloaca in realtà il sogno apparve di nuovo sebastiano che disse dove era il suo corpo il quale fu pietosamente raccolto e seppelito in una catacomba la catacomba appunto di san sebastiano a roma ed ora passiamo alle previsioni del tempo e vediamo come su tutte le marche la temperatura è calata oggi è più freddo rispetto ai giorni scorsi le temperature si aggirano tra i 2 e gli 8 gradi anche la massima è calata sensibilmente ci sarà freddo e tempo instabile con rovesci intermittenti specie nel pomeriggio sera nell'entroterra peninico neve fino a quote collinari sulle coste i venti spireranno con una tensione media da nord est nell'interno invece da nord nord est e le temperature sono ancora in calo il mare è mosso allora passiamo alle notizie che pubblicano i giornali oggi e apriamo oggi il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e l'apertura è dedicata a un bellissimo progetto si tratta di un monumento a Vitruvio che la città di Fano vuole tributare e vuole così consolidare il rapporto con l'antico architetto della romanità che citò proprio Fano nel suo De Architettura perché in questa città l'antica Fano un fortune eresse la sua basilica esempio e modello di tutte le basiliche romane da allora in poi ecco l'opera monumentale di Vangi è stato presentato ieri il progetto ispirato appunto al De Architettura e ora si cercano finanziatori per realizzarlo un grande scultore dunque per un grande architetto il progetto consiste non nella realizzazione di una statua ma di un vero e proprio progetto di tipo urbanistico si arreda addirittura una piazza anzi si realizza una piazza e vediamo il giornale qui oggi che pubblica la fotografia di questo progetto vediamolo insieme Vangi ha immaginato una piazza delimitata da una panchina molto lunga circolare quindi qui ci si potranno si potranno sedere e assistere anche ad eventi che si potranno realizzare in questo contesto urbanistico infatti Vangi ha ideato non un monumento statico da guardare ma un monumento in cui la gente può entrare può parlare può sedersi può conversare può anche ascoltare dei concerti oppure assistere a degli incontri ebbene il punto focale determinato da un basamento in marmo di Carrara dove nel prospetto è delineato il progetto della basilica di Vitruvio ed è in questa posizione e poi la base è solmontata da una rielaborazione dell'uomo vitruviano di Leonardo iscritto nel quadrato nella circonferenza ma vediamo ancora altre figure all'interno della circonferenza qui abbiamo come omaggio come espressione della spiritualità del messaggio che si vuole lanciare una raffigurazione della pietà rondanini di Michelangelo qua invece abbiamo due figure un uomo e una donna sono cittadini simbolo della contemporaneità dunque qui abbiamo la romanità abbiamo il rinascimento abbiamo la contemporaneità e il futuro perché il messaggio va ovviamente supera ovviamente la barriera del tempo e quindi si lancia verso il futuro un bellissimo progetto che è stato presentato ieri dallo stesso Giuliano Vangelo vediamo qui in questa fotografia insieme al sindaco di Fano insieme al presidente del centro studi Vitruviani Dino Zacchilli che ha proposto l'iniziativa all'artista che ha subito accettato qua vediamo anche il coordinatore scientifico Oscar May l'assessore alla cultura Cora Fattori e il presidente della fondazione Carifano Giorgio Gragnola Giorgio Gragnola alla sua presenza insomma ci vogliono qui dei collaboratori degli sponsor per realizzare questo monumento che costeranno un poco insomma quindi occorre anche un concorso del privato e speriamo che altri poi si associino alla realizzazione di quest'opera una cosa importante Giuliano Vangi ha detto io sono nato nel 35 e quindi insomma sono piuttosto vecchio l'opera è piuttosto impegnativa quindi o l'incarico si formalizza presto oppure chissà forse le mie forze non riusciranno a realizzare questa bellissima opera ed ora passiamo alle altre notizie commercio artigianato e giovani vincolate le vie del centro storico in questo articolo si parla della seconda riunione che le associazioni di categoria hanno svolto incontrando l'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi per quanto riguarda le linee di indirizzo del nuovo piano regolatore scusate piano regolatore che ora si si comincia a dilineare sempre più il che vuol dire che la data di presentazione è assai prossima siamo dunque agli sgoccioli ebbene in questa riunione si sono trattati diversi argomenti innanzitutto il centro storico il centro storico che era stato regolato da un piano particolare giato del 1978 che ora comincia ad accusare i suoi anni una volta si cercava di preservare la funzione abitativa all'interno del centro storico in modo che non si depauperasse dalla popolazione ora invece il trend è cambiato è arrivato movimento inverso cioè si cerca di incrementare soprattutto l'aspetto commerciale del centro perché la tendenza è variata ovvero c'è una tendenza che privilegia di più l'abitazione che l'esercizio commerciale sarà colpa della crisi sarà colpa dell'aumento dei costi insomma i negozi ora langono e molti infatti sono chiusi per tutelare questa funzione il nuovo piano regolatore intende caratterizzare alcune vie del centro storico con una determinata funzione per esempio ci saranno le vie dello shopping via cavur via garibaldi il corso matteotti sono vie dello shopping ci sarà poi la via della cultura è la via delle associazioni via arco d'augusto la via invece vediamo un attimo la la via dei giovani la via dei giovani è quella direttiva che unisce la rocca malatestiana con il bastione sangallo che sono diventati ultimamente due poli da attrazione particolarmente importanti non solo dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista degli eventi che essi contengono e per i quali fanno una bellissima cornice abbiamo anche via nolfi che sarà la via dell'artigianato e dei laboratori insomma ogni via avrà una sua caratterizzazione e in queste vie i piani terra non possono essere adibiti ad abitazioni devono essere adibiti per forza a uffici a negozi a laboratori insomma si cerca di preservare l'aspetto economico e commerciale del centro storico poi si è parlato anche della periferia si è confermato l'ampliamento della zona industriale di bellocchi si è parlato anche della zona industriale di ponte metauro dove si ammette una certa quota di residenziale ma si privilegiano palestre servizi per la popolazione asili privati insomma tutto quello che può servire alla cittadinanza senza che questo faccia concorrenza al centro storico ed infine si sta anche ragionando sulla possibilità di convertire alcuni hotel che ormai sono chiusi da tempo e non si trovano in zone decentrate in appartamenti qui si cerca di usare un certo equilibrio una certa prudenza ma qualche deroga forse sarà approvata questo dunque quello che delinea il piano regolatore prossimo ci saranno altre riunioni altri incontri si incontreranno anche gli ordini professionali e poi ovviamente si incontreranno tutti i quartieri vediamo ora le altre notizie vediamo fossombrone fossombrone metauro la piena fa paura è urgente ripulire l'alveo il portavoce di borgo sant'antonio rilancia l'appello alla regione al consorzio di bonifica ebbene la vegetazione o il letto del fiume che si è dei timori nella popolazione residente che si trova lì vicino i residenti di borgo sant'antonio e di via delle tinte a fossombrone tornano alla carica per sollecitare il consorzio di bonifica e soprattutto la regione affinché il letto del fiume sia scavato sia ripulito e l'acqua possa scorrere tranquillamente non basta quanto è accaduto recentemente dopo le alluvioni dell'anno scorso a appunto convincere gli organi competenti a curare in maniera puntuale e sistematica i corsi d'acqua vediamo anche un appello dei luca serfilippi il consigliere regionale per quanto riguarda la colle maraton di cui ieri è stata data la notizia della sua soppressione per il 2023 la colle maraton deve vivere ha detto il consigliere regionale che si pone al lavoro per salvare l'edizione prossima l'edizione del 2023 si tratta di una risorsa del territorio ha detto serfilippi e quindi occorre superare gli ostacoli della burocrazia e le dispute di cortile tra i comuni competenti perché la corsa attraversa più comuni fano barchi san costanzo insomma tutti i comuni che dalla collina scendono i territori scendono verso la costa la pagina di senigallia la canne la pagina di senigallia evidenzia una figura che i fanesi conoscono bene e quella di giorgio giovannelli della cis ebbene giovannelli e giovanni scusi scusate non giorgio giovanni giovannelli della cis è stato appunto anche responsabile della cis di fano ora lavora a senigallia e da qui ha lanciato un appello soprattutto per quanto riguarda il personale dei ristoranti camerieri pagati 3 euro l'ora dice il titolo del giornale lo vediamo qui è un contratto che è un miraggio ebbene all'inizio si contattano si contatta del personale lo si paga pochissimo con il miraggio poi di perfezionare il rapporto di lavoro attraverso un contratto ma il contratto non arriva e di qui il personale dunque risulta sottopagato camerieri pagati circa 3 euro l'ora con la promessa di un contratto che non sempre arriva in certe situazioni vengono richiamati in prova nel weekend ma se si permettono di contestare questa modalità il telefono non squilla più è una denuncia che fa il sindacato per correre ai ripari di un modo di comportarsi del della ristorazione che certo non fa onore a chi lo pratica vediamo qualche notizia che riguarda pesaro e vediamo come nei condomini nei condomini le rate appunto di condominio aumentino sempre più per il caro bollette condomini le rate schizzano ancora rincari fino al 50 per cento caro energia gli amministratori confermano il gennaio nero e la tendenza non cambierà stiamo venendo incontro alle richieste delle famiglie con dei piani graduali di rientro ovvero con delle rate per pagare questi supplementi di spesa che si aggiungono poi alla spesa dell'affitto vediamo l'escalation dei rincari si tratta di pesaro ma il problema è spalmato un po su tutto il territorio l'escalation dei rincari a inizio gennaio le rate condominali hanno subito aumenti compresi tra il 30 e il 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 il picco massimo è stato raggiunto dalla bolletta del gas che ora costa 1,70 o 1,80 al metro cubo è veramente una cifra considerevole l'importo delle rate condominali a gennaio 2023 vanno da 230 a 350 euro mensili comprensivi tutti i servizi riscaldamento centralizzato compreso per appartamenti superiori ai 100 metri quadri poi in posizione di prestigio l'importo delle rate può arrivare intorno a 800 euro in più veramente cifre cifre iperboliche sono cifre veramente eccezionali passiamo ad altre notizie passiamo ad altre notizie vediamo questa notizia di cronaca pronto soccorso un ventenne semina il caos girando nudo e aggredendo degli infermieri era in stato di ebrezza era stato coinvolto in un incidente era stato prelevato portato nel pronto soccorso ma qui veramente ha seminato il caos ha reagito in maniera molto molto provocatoria ha seminato il caos girando nudo e danneggiando i locali del triage tutto è iniziato poco dopo le 7 di ieri quando la rotatoria sulla statale 16 a catabrighe è stata teatro di un incidente due auto si sono scontrate appunto su questo punto i feriti sono stati quattro tutti leggeri tra cui tre ragazzi nella stessa macchina al pronto soccorso poi è arrivato un ventenne quando è arrivato qui si è visto subito che era in condizioni di alterazione per quanto riguarda l'alcol e all'improvviso mentre attendeva l'esito degli esami è diventato aggressivo ed ha iniziato a minacciare di morte il personale sanitario prendendo addirittura per il collo un infermiere e si era strappato di dosso tutti gli accessi venosi tutti insomma gli aghi che gli erano stati applicati per le analisi a questo punto il personale infermieristico e anche quello dei professioni dei medici hanno suonato il hanno calzato il pulsante di emergenza sono state attivate le forze dell'ordine e sono intervenuti e hanno arrestato hanno arrestato il giovane per resistenza a pubblico ufficiale è stato poi anche accusato di danneggiamento e aggressione per quanto riguarda quanto fatto all'interno del pronto soccorso capitale della cultura si parte pesaro ormai è sulla direttura di partenza e convoca tutti i sindaci del territorio non è un'avventura che pesaro vuole così provare da solo ma vuole coinvolgere anche il territorio i comuni della provincia come anticipato dal palco degli stati generali del turismo nel novembre scorso ogni 24 del mese ci sarà un conciliabolo una riunione di tutti i sindaci per coinvolgere nelle manifestazioni negli eventi che daranno carattere e importanza non solo a pesaro ma a tutto il territorio e tutta la provincia il primo appuntamento si dividerà in due momenti all'ora e 14 del 24 al teatro sperimentale ci sarà un incontro aperto a tutti i portatori di interesse singoli gruppi organizzazioni associazioni nell'ambito della cultura del turismo del sociale dell'imprenditoria insomma si cerca di coinvolgere molte molte persone e poi abbiamo alle 17 ci svolgerà un momento istituzionale nel salone Metaurense di Palazzo Ducale dove sono attesi i 50 sindaci della provincia quindi sono coinvolti veramente tutti i comuni in questa bella avventura Ucchielli, Ucchielli vieta il cibo ai piccioni e gli animalisti ovviamente insorgono lo denunciamo, hanno inveito, parte un esposto il sindaco replica ma che maltrattamenti la gente protesta e i problemi quelli veri sono altri ebbene si sa quanto i piccioni proliferano i danni che questi causano le deiezioni, la sporcizia, il cibo che si accumula e poi va male insomma sono problemi igienici importanti e allora Ucchielli vuol cogliere i ripari insomma vieta di dargli a mangiare i piccioni ma i piccioni che ormai non riescono a procurarsi il cibo da soli perché sono abituati a mangiare il cibo che gli viene così somministrato dai cittadini in questo caso si troverebbero veramente a disagio e forse anche moriranno e allora ecco qui questa contrapposizione tra Ucchielli e gli animalisti e vedremo poi chi la spunterà, chi avrà la vittoria chiudiamo il Corriere e passiamo ora all'arresto del Carlino e vediamo che l'apertura su Fano è dedicata ad una denuncia che i consiglieri del Movimento 5 Stelle fanno per quanto accade nel quartiere di San Lazzaro San Lazzaro un quartiere abbandonato dice il titolo mancano punti di aggregazione con iniziative di incontro e svago esplode dunque la protesta dei consiglieri del Movimento 5 Stelle e soprattutto Francesco Panaroni che ha preso l'iniziativa insieme poi ai suoi colleghi che fanno parte del gruppo consigliare Tommaso Mazzanti e Giovanni Fontana che cosa accade a San Lazzaro? San Lazzaro, dobbiamo dirlo, è stato sempre un quartiere piuttosto problematico e se poi ai problemi causati dalle persone dai giovani soprattutto che magari si abbandonano a episodi di vandalismo, di sporcizia eccetera si aggiunge anche il degrado del quartiere stesso e beh la situazione diventa veramente critica il giardino di Piazza Bonci con l'area dell'edicola dismessa è in stato di totale abbandono dicono i 5 Stelle l'elenco poi prosegue non c'è stata manutenzione dell'area ingresso del nido arcobaleno e poi non viene fatto neppure rispettare il cartello di divieto di fermata davanti al cancello della scuola stessa mancano i cestini porta rifiuti all'ingresso del vialetto Guasco e poi abbiamo ancora ci sono problemi per quanto riguarda le buche nelle strade cunette caditoie che sono intasate ci sono poi sgambatoi dei cani che non vengono curati insomma sono diversi i problemi che i 5 Stelle denunciano perché esistono nel quartiere di San Lazzaro e quindi si vuole attivare l'amministrazione comunale perché intervenga soprattutto perché ci sia più controllo da parte della polizia locale nella gara di solidarietà che abbiamo evidenziato ieri per il piccolo Thomas un bambino disabile per il quale i genitori intendono così dare una bicicletta una bicicletta speciale del costo di 9.000 euro ebbene la gara di solidarietà ha cominciato a dare i suoi frutti sono stati già raccolti i 3.000 euro la storia raccontata dal Carlino ha aperto il cuore dei fanesi una cifra che servirà ad aiutare il piccolo e ovviamente la raccolta continua fino al raggiungimento si spera almeno della cifra necessaria con le marathon addio che danno per il territorio anche il Carlino dà la notizia della perdita speriamo che possa essere recuperata di questa gara che attira nel nostro territorio oltre 1.000 atleti quando viene effettuata e soprattutto c'è anche una denuncia un rimpianto del presidente degli albergatori Luciano Cecchini per cui insomma la gara era un foraggio importante per la nostra ricettività in un periodo di bassa stagione come il mese di maggio un incidente d'auto possiamo dire l'ennesimo incidente d'auto investita da un'auto un viale primo maggio paura per una ragazzina di 11 anni è accaduto poco dopo le 17 di ieri sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 ma per fortuna la ragazzina non è grave anche il resto del Carlino evidenzia il grande progetto il bellissimo progetto di Giuliano Vangi che nobiliterà piazza avveduti e poi giriamo ancora la pagina e vediamo come nella Val Cesano si parli di tartufo ora si cerca anche in sella al cavallo l'invenzione approda in Val Cesano si unisce così una bella possibilità di fare un'escursione con l'avventura di cercare il tartufo che è una bella esperienza questo porta la firma di Giacomo Bartolucci e della moglie Erika Sebastianelli appassionati di equitazione a Mondavio la festa del Nino entra nella fase clou laboratori di norcineria con assaggi e per chi vuole anche la cena a base di delizie del territorio siamo ormai entrati in carnevale in carnevale la carne di maiale è un po' il simbolo della trasgressione quindi prendetela, assaggiatela con moderazione ma veramente assaggiate le specialità del territorio vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro pubblicata dal resto del Carlino e vediamo come nella prima pagina si parli di volontariato avanti ragazzi c'è il servizio civile un anno per mettersi alla prova ecco tutte le opportunità con un rimborso mensile di circa 450 euro per chi vuole provare questa esperienza un'esperienza che forma sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista intellettuale e io direi anche spirituale spirituale perché dedicarsi ad aiuto degli altri forma il carattere e forma soprattutto la mente tutte le opportunità vengono evidenziate da questo articolo ci sono diverse associazioni fanno per esempio l'Africa Chiama è una di queste che cerca appunto volontari per una missione importante nei paesi più poveri dell'Africa nera e poi vediamo qui che del banco alimentare spunta anche giovanotti sono anche queste queste figure emblematiche di riferimento per i giovani che danno il loro appoggio a queste belle iniziative al fianco dei non vedenti sarete il loro sostegno l'Unione Italiana Cechi cerca otto ragazzi in provincia ebbene giovani fatevi avanti segnalazioni di degrado in città l'assessore vi aspetta in ufficio ebbene Francesca Frenquellucci assessori di Pesaro nei prossimi venerdì sarà presente in comune per ricevere tutti coloro che vogliono denunciare una situazione di degrado un colloquio diretto tra amministrazione comunale e cittadini sarà disponibile alle 10.30 di Palazzo Gradari l'idea è quella di raccogliere spunti e indicazioni per interventi migliorativi musa ispiratrice Miranda Paolucci ebbene anche questo esempio un buon esempio viene assunto dall'amministrazione comunale e qui abbiamo poi l'articolo che riguarda quanto è avvenuto nel pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro nella giornata di ieri un fatto purtroppo che non è unico e quindi occorre tutelare sempre di più gli operatori del pronto soccorso in tutti i nosocomi in tutti gli ospedali e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e come sempre per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera su Fano TV Occhio alla Notizia e dopo vi ricordo il bellissimo documentario di Paolo Delbianco questo per il momento è tutto a risentirci buona giornata Grazie a tutti